Perché nascono le prime città? Grazie all'invenzione dell'agricoltura vi è un aumento demografico. Le donne rischiano meno quando sono incinta perché non devono spostarsi, non devono seguire gli uomini in cerca di cibo. Possono rimanere nel luogo in cui hanno deciso di fermarsi perché l'agricoltura e l'allevamento permettono sempre di poter rigenerare le proprie risorse alimentari. Il numero degli uomini aumenta, aumenta la popolazione, nascono i primi villaggi, nascono le prime città. Al prossimo video ciao ciao Ciao